E' il segnale molto chiaro, molto netto, che i cittadini vogliono dare, che sono tutt'altro che assenti, tutt'altro che spettatori disinteressati rispetto a quello che accade nella nostra città e tramite l'impegno associativo vogliono dare un contributo assolutamente determinante per migliorare le cose. E' stato messo in evidenza l'enorme potenziale di questa città, potenziale assolutamente inespresso, probabilmente perché in questi anni vi è stata un'interpretazione della cosa pubblica che a noi associazioni non è piaciuta e perciò anziché star zitti e lamentarci e basta diamo la nostra proposta e quindi le nostre soluzioni.